Buongiorno, oggi parleremo di egoismo. Sei un egoista? Beh, l'egoista è una persona che ha uno sguardo miope sulle cose, sugli altri. Percepisce gli altri non come una totalità, bensì in modo parziale. Immaginiamo alla maniera di Picasso, vale a dire un pezzettino alla volta. Con l'espressione oggetto parziale in psicanalisi si intende la predominanza di una parte sul tutto. Ad esempio di una donna o di un uomo vediamo soltanto un determinato attributo fisico. Le labbra, il seno, il bacino, i capelli. E però questi aspetti parziali dovrebbero rendere conto di tutto il resto. Questo è l'equivoco. Quindi si parte da un dettaglio e in base a questo dettaglio si deduce qualcosa di generale, di globale. Questo fa l'egoista. Inoltre l'egoista proietta sull'altro, quindi sull'oggetto parziale, qualcosa che non vede in se stesso. E poi desidera questo oggetto. Lo desidera perché è convinto che sia essenziale per lui. Questa si chiama una cultura dell'illusione ed è proprio la cultura sulla quale si basa la nostra società. Una cultura nella quale l'oggetto rappresenta sempre qualcos'altro. Non rappresenta mai se stesso. E guarda caso queste sono anche le modalità del narcisista. Sono anche le modalità del bambino in effetti. Che quando si relaziona con la figura materna non la percepisce come una individualità autonoma e separata, ma la percepisce come un appendice delle proprie necessità, dei propri bisogni. La stessa cosa fa l'egoista. Non riesce a vedere il partner come una figura intera, ma vede soltanto delle parti, come se vedesse soltanto un lato del volto. La visione dell'egoista è una visione modellata, aggiustata, truccata, perché è una visione in funzione di un desiderio inconscio. Questa è proprio la logica dell'oggetto parziale, che viene appunto rimodellato in funzione di uno scopo. Il risultato di questo meccanismo è che l'egoista non riesce ad accedere alla soggettività dell'altro. Pertanto lo trasforma in un oggetto strumentale di possesso, ovvero di controllo, proprio come farebbe il narcisista. L'altro diventa un contenitore vuoto, che viene invaso e animato dalle proiezioni dell'egoista, e viene riempito da ciò che lui vuole che il partner rappresenti. Vale a dire, l'oggetto, cioè l'altro, viene colmato di significati proiettati, che però non sono significati reali, non corrispondono alla realtà. Questo tipo di relazioni possono avere una parvenza, la parvenza di una unione molto profonda, ma in realtà sono inconsistenti, perché l'altro viene disconosciuto nella sua individualità psicologica. Infatti l'egoista non pone alcuna attenzione alla sua particolarità o alla sua storia. L'egoista è un po' come il narcisista, che vive in funzione di uno sguardo riflesso, che non è lo sguardo reale dell'altro, è uno sguardo carico di proiezioni, per cui in effetti l'altro non esiste, l'altro cessa di esistere, sparisce, diventa come un'ombra. In più consideriamo che la persona egoista non ha il coraggio di mettersi in discussione, perché il suo io è fragile, e allora si difende in questo modo. L'egoista non sa aprirsi al nuovo, è ancorato ad un vecchio schema mentale, perciò deruba l'altro del suo spazio psicologico. Non è disposto a sacrificare la propria parola, come anche il narcisista, non cede spazio alla parola dell'altro, pertanto seduce l'altro abbagliandolo di parole grandiose. Un rapporto fondato su questi presupposti è un rapporto destinato a fallire, perché l'altro non viene riconosciuto e compresso nella sua individualità, ma è strumentalizzato e parcellizzato, come un oggetto parziale, che quando non serve più viene scartato. Dall'egoismo si può guarire con una buona psicoterapia. Beh, mi fermo qui e vi informo che faccio consulenze psicologiche online, sia con la videochiamata a telefoni che via mail. Per richiedere un consulto dovete scrivere un messaggio su whatsapp al numero 338 16 92 473, scrivendo come funziona la psicoterapia. Buona giornata.